Ciao a tutti, oggi sono qua all'ultimo giorno di Mare di Libri insieme a due ospiti molto speciali, ovvero Cono Pettinato e Dario Moccia. Speciali nel senso che siamo tipo ritardati, no? Vabbè, prego, prego, scusa non volevo interrompere. No, assolutamente. È capitato che qualche mio iscritto mi chiedesse chi sono Dario Moccia e Cono Pettinato. Domanda l'equittima questa. Volete presentarvi in due parole? Facciamo che io presenti te e te presenti me. Ok. Ce la fai? Io fingo di essere te? No, no, io introduco te e te introduci me. Allora, Dario è un eminente youtuber che dedica i suoi video alla divulgazione del fumetto in tutte le sue forme, specialmente in quelle nipponiche. Sì, sì, sì. Con leggi, mi ha il caso. Sì, 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 va bene. Esatto. In tempi recenti abbiamo fatto un fumetto assieme su Ferdì Mercuri. Il Ferdì Champions. Esattamente. perché Rizzoli gli aveva chiesto un progetto, lui è tuttora ferratissimo su Ferdì Mercuri e ha scoperto che anch'io era stato un fan dei Queen in anni di liceo, quindi è scattata questa collaborazione. Siamo stati assieme in Giappone, per me per la prima volta, per lui la tredicesima volta. Sì, lo credo, lo so è uguale. Esatto. È praticamente un cittadino tocchiense acquisito. Come mai il buongiorno che ha avuto la cittadinanza italiana ad onore. Ok. Fanno la statua accanto a Chico. La barra d'oro quando muoio. Sì, sì, sì. No, è bello perché abbiamo due caratteri esattamente... Come si può notare in questo minuto. Esatto, esatto. E quindi questo viaggio in Giappone che abbiamo fatto verrà raccontato da un fumetto in uscita fra un bel po' perché abbiamo fatto tonnellate e tonnellate di foto e di appunti e quindi ci divertiremo a fare questa cosa. Ok, invece Tonno Pettinato è un fumettista pisano, molto attaccato alla sua città, molto attaccato alle sue origini. Io lo definisco un fumettista sia pop che punk, quindi pop punk, che non sono quei gruppacci che ci sono ora in giro ma che ha le sue radici sia nel pop che nel punk e quindi riesce ad amalgamarle bene nel fumetto. Il Green Day del... No, 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 no. Non il Green Day. E comunque io prima di... questo lo dico sempre, prima di essere autore, collega, amico, eccetera, ero ammiratore, fan del suo follower, come si dice adesso, del suo lavoro. Quindi prendevo i suoi fumetti, leggevo, eccetera, tutto quello che faceva e l'ho sempre ammirato. Quando appunto la Rizzoli mi ha chiamato per fare un libro, il solito libro sullo youtuber, ho detto di no e ho preferito fare un fumetto anche perché io, prima che succedesse questa cosa di YouTube, studiavo a Firenze per fare il fumetto. Quindi ho chiamato Tuono perché spaccava e secondo me era la persona perfetta per fare We Are The Champions e lui si è mostrato subito entusiasta. Ha uno stile molto minimale, sintetico, che secondo me tra l'altro è al massimo del suo sintetismo in questo momento, quindi al massimo della sua bellezza. E stiamo facendo questo fumetto sul Giappone perché fondamentalmente è nato a caso questa cosa qui, nel senso, eravamo a casa sua, mi pare, questa cosa ancora non l'abbiamo ben capita, a parlare non si sa bene di cosa e a un certo punto fa, boh, sarebbe bello fare il secondo fumetto tipo Travelog in Giappone, però chissà cosa verrebbe fuori. E lui l'aveva presa a battuta e in realtà appena esco in casa sua chiamo Simone di Rizzoli e chiedo Simone ci ridate Vaini i soldi per fare un viaggio in Giappone e faccio un fumetto. Guarda sì, noi te lo pubblichiamo, però non abbiamo soldi per mandarvi tutti e due in Giappone. Allora ho chiamato l'agenzia di viaggi per cui lavoro e mi sono fatto finanziare, produrre, sponsorizzare. Questo fumetto infatti apparirà ovunque nel fumetto e abbiamo fatto questo viaggio in Giappone e ora a Lucca 2018 uscirà questo Big In Giappone. Tra l'altro la cosa del viaggio, se posso dire, inconsapevolmente l'avevamo già fatta con Ferdì Mercoli perché il fumetto che abbiamo fatto è in parte, diciamo la parte centrale un po' sulla vita di Ferdì Mercoli, però chi racconta questa storia siamo io e lui che chiacchieriamo come due nerd fan e ad un certo punto comincia un viaggio e ho visto che le dinamiche di viaggio erano un po' le stesse, con io che mi lamento e che mi dici no siamo quasi arrivati, tranquillo. C'era già una previsione del futuro? Assolutamente sì, perché lui diciamo è molto ansioso, io assolutamente non l'ho proprio all'opposto, forse sono troppo estremo nel senso che io posso perdere anche 20 treni e non mi preoccupo. Come è successo oggi, ho perso il treno, vabbè, prendiamo un'attitudine, è diventata un'avventura praticamente. E sì, secondo me è quella la forza, a noi ci unisce una cosa, su questo siamo veramente in linea, nel senso che a tutti e due piace fare fumetto divulgativo, nel senso che quello che ha fatto lui con Garibaldi, con Corpicino, con Enigma, con la scienza, con Comics and Science, sono tutte cose che ha fatto per divulgare un determinato argomento, che sia la storia di Garibaldi, che sia la storia di Alan Turing, che sia la storia appunto, e ci teniamo a divulgare un messaggio che poi può arrivare al lettore ed essere collezionato da esso, quindi questo è quello che vogliamo fare. Con We are the Champions l'abbiamo fatto in maniera leggera, non abbiamo ovviamente l'autorità di un saggio, di un saggista, però abbiamo avuto l'autorità di due fumettisti, che hanno voluto raccontare quelli, anche Big in Giappone sarà questo, sarà una non guida, perché è fatta comunque da due balordi, siamo due balordi, sono due balordi che scrivono questa non guida sul Giappone, però ci tengono a dare la loro idea, da interni, esterni, mezzi interni, mezzi esterni, del Giappone e della società giapponese, infatti cercheremo di parlare di tutti. C'è un piccolo aneddoto che ci volete raccontare, perché appunto era la prima volta, fuci niente in vento, perché poi vogliamo leggere il fumetto ovviamente, visto che era la tua prima volta in Giappone, c'è qualcosa magari che ti ha sorpreso? Erano ovviamente tantissime le cose, perché a un certo punto abbiamo cominciato a notare che ci sono delle contraddizioni fortissime, in un ristorante buonissimo tra l'altro fumavano come dei turchi, per strada c'era un separé per separare i fumatori dal non fumatore all'aria aperta, ed era un continuo di cose di questo genere, specialmente Tokyo che per me mi è sembrato veramente un flipper enorme, ci ha colpito molto l'uso delle mascotte, questo ci piacerebbe tantissimo, non troviamo casi simili in altre nazioni, mi sembra di utilizzo così... Forse in Francia. Invasivo, così no, non esiste da nessun'altra parte. Ma sono mascotte carine anche quelli lì, per... Ma in Francia usano più che altro, sai, Spirou, Tenten, i soliti Asterix, no, lì proprio l'inventano ex nome. Sì, 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 sì. E che è la mascotte della polizia. Pipo Kuhn. Pipo Kuhn. È una cosa bellissima. Sì, sì, sì. Ma noi infatti abbiamo fatto una sezione dove lui reinterpreterà graficamente tutte le mascotte che ci sono piaciute di più. Esatto. Rillacuma, sia mascotte prese in licenza per creare prodotti, per esempio, lì ci sono i cerotti di Hello Kitty, o anche, no, non si può dire, i vibratori di Hello Kitty, eccetera, ma ci sono... Utensili. Utensili sessuali. Sì. Però ci sono anche mascotte create ex novo per rappresentare qualcosa. Pipo Kuhn, appunto, la polizia, e addirittura ogni prefettura del Giappone, che sono l'equivalente delle nostre regioni, per fatti capire, hanno una mascotte. E a volte queste mascotte escono dalla regione per diventare importanti a livello nazionale, come Kumamon, che è questo orso nero con l'occhio un po' a rettile e le gote rosse, che era ovunque. Capito, sì, sì, sì. È ovunque. E poi ci piacerà, insomma, parleremo sicuramente anche delle mascotte storiche, tipo Atom, Noracuro. Che allo stesso tempo il fumetto è una cosa veneratissima. Non se ne vergogna. Quello stai tranquillo. No, no, esatto. Anzi, c'era questo giochino che noi entravamo nei taxi, dicevamo che eravamo dei mangaka, come effettivamente siamo, e questo impazzivano di gioia, una cosa che qui non succederebbe mai. Capo, 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 capo. Quindi, a proposito di questo, come vedete voi il fumetto in Italia? Allora, quello che abbiamo occasione di vedere noi, visitando i festival, andando alle presentazioni, seguendo un po' qual è la vita dei fumetti italiani, l'idea è che, insomma, l'impressione è che ci sia una produzione vastissima, anche di grandissima qualità. poi forse è anche un po' complicato il fatto che, non dico che è una cosa underground, ma quasi, forse crea anche una libertà maggiore nel poter veramente disegnare qualsiasi cosa. E il risvolto di questa cosa qui è che, per avere visibilità, il fumetto deve mascherarsi da una cosa letteraria, andare ai festival importanti, questa cosa qui. A proposito, secondo voi, c'è ancora un po' di pregiudizio nei confronti del fumetto, che è una cosa un po' più, o per ragazzi, o per nerd, cioè viene ancora un po' preso poco sul serio? Allora, sì, allora, questa cosa qui, sì, c'è, ma come penso ci sia, no, è che penso, come c'è in Giappone, come c'è in Francia. Qua è un po' diverso, perché purtroppo, diciamo che la nostra storia del fumetto è stata molto particolare, e ha avuto delle fasi ascendenti e discendenti. Per esempio, negli anni 70, il fumetto italiano era preso molto seriamente, perché venivano fatti dei fumetti satirici e critici, molto pesanti, che andavano anche nelle cronache. Vedi il male, vedi i cannibali, le frigideri, insomma, c'era qualsiasi tipo di cosa. Perché facevano questi articoli finti, che sembravano veri, come Tognazzi, capo delle BR, e creava scompiglio questa cosa. Quando uscì fuori di Landogne, nell'anno 80, ci fu un vero moto popolare intorno a questo personaggio. ora, come ha detto giustamente Andrea, c'è una vastissima scelta, l'edicola di adesso è molto più vasta rispetto all'edicola di Mimà, che aveva solo i fumetti della corno, dei supereroi, Thor, eccetera, e poi c'era il solito Tex, insomma, i buoni anni. Ma mamma non leggeva solito la corno. Sì, sì, leggeva Thor, fantastici quattro, se non è. Già Spider-Man era troppo da friccazione. E quindi adesso, sì, anche con i nuovi fenomeni, Zero Calcare, anche G.I.P. che è riuscito ad andare ovunque, ma anche lo stesso Orecchioni, che vi piaccia, non vi piaccia, con la sua persona, personaggio, è riuscito a far diventare il curatore di una serie, una figura che esce dall'editoria, e che dialoga col pubblico, e a volte si scontra col pubblico, è diventato un personaggio pop. Zero Calcare non ne parliamo, cioè, è sempre ad affazio, e nei servizi di TG. C'è una nuova riconsiderazione del momento. Però, secondo me, infatti ci fanno anche l'applausi, secondo me, quello che bisogna fare adesso, è cercare di sfruttare questo momento, per andare sempre più su. E non, quello che, non bisogna fare lo sbaglio di dimenticarcene, perché se no ritorniamo un'altra volta giù, e dobbiamo aspettare un'altra volta. Ecco, io direi di procedere così, stanno venendo fuori un sacco di realtà, ma maiuto come realtà indipendente, che adesso è diventata in realtà editoriale, non più indipendente, perché la Shotom l'ha acquisita, ci sono tantissime case di tici, Bonelli si è stata riuscita a svecchiarsi, un pochino, sì, sì, nuovo Sciple Martin Misterre, nuovo Grand Dog, esatto, ora sta riproponendo, mi dico addirittura, le storie di Tex, che venivano fatte sul libretto, come il Totem Misterioso, insomma, sta cercando di fare nuove, addirittura con le carte da gioco dentro, cioè con il gadget, Topolino ne parliamo, quando ha acquisito Panini, iniziative editoriali una dopo l'altra, insomma, c'è un nuovo boom, c'è tanta scelta, il pubblico deve essere indirizzato e sono contento che magari al posto di un romanzo, senza togliere nulla i romanzi, adesso si piglino una bella graphic novel di Givi, perché no, di Zero Carcare, tutto il resto, perché la Ferra dei Figli, secondo me, ha la valenza di un romanzo altissimo, anzi forse qualcosa di più, questo senza dubbio. Spesso quando parlo con delle persone che si stanno avvicinando adesso al fumetto, che prima magari erano abituate a leggere solo romanzi, c'è spesso un po' il pregiudizio nel fumetto, per quanto riguarda i disegni e i colori, io ho tantissime persone che conosco, che se non potresti a comprare un fumetto, se non è a colori o se non ha dei disegni belli, al di là della storia. Sì, qualcuno l'ho incontrata anch'io di queste. Come potremmo fare per, diciamo, cancellare un po' questo pregiudizio, perché comunque ci sono tante storie belle, con anche dei disegni semplici. Io faccio una piccola provocazione, poi lascio a Andrea che è quello buono. Io non farei niente, nel senso che, faccio un esempio con il cinema, il cinema negli anni 70, anche 60 in Italia, era fiorentissimo, veniva copiato da tutto il mondo, perché semplicemente non si seguiva necessariamente sempre il gusto del pubblico, ma i produttori avevano voglia di rischiare, magari producendo anche dei flop, tipo Dune, dell'Aurentis ha prodotto Dune, che è stato un flop tremendo. E non si ascoltava il pubblico, ma erano registi a vedere il mondo fuori e poi a riportarlo nei propri film. E quindi il pubblico veniva educato perché i film popolari erano quelli che uscivano al cinema senza l'imposizione del gusto del pubblico. Ora c'è un po' la tendenza di seguire per forza il gusto del pubblico. Quindi io direi di non assecondarlo. Se il pubblico ha voglia del fumetto a colori, perché se no non lo compra, io non lo ascolterei. Perché io, autore, devo fare un'opera a colori, perché me lo dice il pubblico. Devo decidere io se usare il colore o meno. Per esempio, via il nostro, via il Decemple, ci sono delle parti in bianco e nero e delle parti a colori. Non è perché l'abbiamo fatto perché abbiamo un disturbo ossessivo compulsivo, ma perché delle parti meritavano i colori, cioè le parti nostre più pop e cazzone, e poi c'erano le parti della vita e tra di me, che ci tornava meglio metterle in bianco e nero. Assecondando, come dici te, il gusto del pubblico, magari avremmo dovuto fare tutto a colori o tutto in bianco e nero. Non va bene. Il pubblico va educato. Per educarlo deve cercare di capire le scelte dell'autore e non imporsi. Sì, probabilmente uno scoglio che può esserci, lo vedo anche su me stesso come lettore, è che magari apre un libro, il tratto magari non mi... può essere bellissimo, magari non mi conquista al momento e io mi perdo una storia potenzialmente bellissima solo per una questione di primo impatto del libro. Quindi forse un po' anche comunicare insomma il valore di questi libri, di come mai uno dovrebbe affrontare questi libri qui anche se a un primo impatto non li convincono. Ma lo so, ti faccio un esempio lampante, Filosa, io l'ho detto sempre anche a Andrea, non mi piace il suo stile di disegno. lo ammetto, lo dico tranquillamente perché non è nelle mie corde, no, preferisco altro. Però porca miseria scrive come si deve e quando leggo una roba di Filosa sono contento perché è, per esempio, il suo travelogue giapponese, hai sentito come sono riuscito ad Astrigan? È meraviglioso, è bello, è molto onirico, cerca di fondere il surreale al concreto, è una cosa che è metaforico in tantissimi punti. Poi chieda tantissimo gli stili di altri fumettisti. Sì, Gekika, cerca di fatto anche imparare delle cose, cioè, perché non mi piace il suo stile magari mi sarei perso un mondo, no? Invece non bisogna andare, poi magari, tra l'altro, andando oltre questa cosa qui, apprezzando come scrivi, poi riesce anche a capire di più perché usa quello stile per le sue storie, quindi, e infatti Filosa lo capisco molto di più da quando ho iniziato a leggere le sue storie. Sì, quello che penso anche io, piccola parentesi, è infatti superare magari questi ostacoli perché magari all'interno della storia riesce a capire perché i colori ci sono o non ci sono, esatto, perché alcune cose sono state disegnate così. Sì, sì, ma anche quando Gipi diceva no, disegno male, secondo me non disegnava malissimo, però erano disegni molto diversi rispetto alla terra dei figli, erano disegni più buttati quasi abbozzati con quegli apparelli. quasi disgraziati, però in realtà con tutta una sua solidità. Ma scherzi, molti lo criticarono per questo, ma a criticarlo così ti perdi una storia incredibile perché Gipi sa scrive, è inevitabile, sa anche disegnare per me, quindi... Poi è anche difficile cambiarla questa cosa, nel senso che l'autore poi si forma su quello stile lì diventa un po' un'impronta digitale sua. Cioè, io non direi mai per esempio ritornando su Filosa di disegnare in un'altra maniera, perché quello è il suo stile, perché è giusto che sia funzionale a quello che deve raccontare lui, perché a tu anni gli chiederesti no, me lo può fare un po' più realistico, cosa dici? Cioè, è come chi è da Schultz di disegnare come Caravaggio, le cose in prospettiva, i cubi, le cose... Quindi, quindi sì, cioè sì, magari può fare come Bevilacqua che ha raccontato in conferenza che si era trovato in difficoltà a disegnare determinate cose perché ha visto che gli mancavano proprio delle basi, l'ha si messo a ristudiare e questa cosa è ammirevole anche lui, prima o poi su Big in Japan probabilmente accadrà con gli sfondi che deve fare, eccetera, a un certo punto scoprirà che gli manca qualcosa e io lo massacrerò finché non viene fuori, come la tavola, la splash page di Freddie Mercury o le tavole giapponesi, racconta, racconta pure che lei è interessata. a un certo punto dovevamo fare questa scena del tour, del primo tour giapponese dei Queen, lui mi dice vabbè fai una cosa tipo manga e io già ero smarrito da questa cosa qui, mi ha mandato una serie di riferimenti, guarda, c'è questo fumetto, quest'altro, quest'altro torna da un dei suoi tour, vede in una conferenza mi rodo dove, vabbè comunque, ti arrivano alle mie tavole forse, ma le vedo di persone, le vedo di persone, le cose più lontane possibili dal manga, sembra il fumetto fatto da un alieno con dei rombi, con prismi, cose strane, tu hai mai letto manga, mi sembra di no, sto cominciando, stai cominciando, ok, perché praticamente lo sto obbligando, causa mobbing, sto cominciando a leggere, e quindi, abbiamo capito che, insomma, quella era il manga degli alieni, abbiamo cercato di fare un'altra versione, e lì, allora, non so se sarrei riprodurlo, però sicuramente adesso ho degli strumenti in più, per fare delle strumenti. Sì, a un certo punto io ho detto, guarda, tu hai una coppia a queste tavole, falle così, falle così, e l'ha fatta così, infatti è venuto bene, ma ecco, l'aveva iniziate già a inchiostrare, esatto, e, ha imparato delle cose, secondo me, infatti, quelle due pagine, sono due delle pagine più belle, di Vai di Centro. No, l'altra cosa bella, perché io, quando dovevo fare i gai di baldi, dovevo disegnare un sacco di cavalli, e invece ti scontri con la cosa che poi devi disegnare cento volte e la soddisfazione di aver acquisito la skill, esatto, una cosa del genere. Ok, mi piacerebbe chiedervi se c'è stato un fumetto o un libro nella vostra infanzia che vi è rimasto particolarmente impresso o che vi ha aiutato nella vostra crescita o nella vostra formazione. Eh sì, si lo verrà. Per me sono i dinersi, sicuramente. Come i riuscii di dinersi. Ah, i pinersi. Tant'è che tuttora continuo a disegnare i cagnolini compulsivamente a causa di snubi, praticamente. Poi chiaramente, man mano che uno va avanti, cambia le cose che vuole raccontare e trova quelli che sono dei modelli in quel momento lì che ti possono essere utili. Chiaramente sono partito con i fumetti emoristici, Peanuts, Calvin e Hobbes che tutto era un proprio lavoro incredibile. Altri fumetti più direttamente comici come Mario Weeds, B.C. E man mano ho scoperto delle cose Daniel Close, l'underland americano, le cose cattivissime e pop messe assieme. E man mano che vai avanti è una parte del costruirsi un proprio stile, il leggere e il prendere dagli autori che ti piacciono. Invece per me più che altro, a parte Calvin e Hobbes che ha citato Andre, che per me rimane la striscia insieme a Venus forse più bella di tutti i tempi. e per me è stata un'opera alle superiori che è stato lo GTO. GTO mi ha fatto capire tutto, nel senso, mi ha fatto capire che si può sceneggiare una storia pop, totalmente pop, cazzona, divertentissima, piena di riferimenti pop, però allo stesso tempo affrontare su una rivista per ragazzi, perché GTO veniva pubblicata su una rivista per ragazzi di 15 anni, potevi denunciare delle cose del sistema giapponese tremende, come la pedofilia a scuola, il bullismo a scuola, il sistema scolastico totalmente sballato del Giappone, con una cattiveria, con una satira mai vista prima su una rivista per 15 anni, ricordo. E per me rimane ancora un capolavoro, meglio forse a Zopriquel che raccontava invece un fenomeno sociale che era il fenomeno dei mototepisti giapponesi fino agli anni 80, inizio anni 90, che però lo raccontava in maniera molto più acerba perché ancora doveva venire fuori l'autorivello. Con GTO siamo arrivati secondo me proprio all'infallibilità anche se si ripete su certe cose sul finale. Mi ha fatto capire che si poteva mascherare con uno stile di scrittura molto semplice. Veramente sono dei professori che compiono atti di credofilia in un manga per ragazzi. La cosa che fa è wow. Questa cosa qui del poter raccontare delle cose con dei contenuti anche seri e profondi tramite una cosa di intrattenimento come dicevi per GTO io la potrei mettere su un fumetto umoristico la stessa cosa cioè poter raccontare con l'umorismo delle cose da pugnare lo stomaco. Ma è come il corpicino come il tuo corpicino dai. Come è quello che noi volevamo fare con i tuoi amici che abbiamo fatto insomma mescolare delle cose apparentemente alleghi spensierate di qualcosa di cattivissimo. Forse è una cosa che ancora non è stata metabolizzata questa cosa di Doraemon non lo so forse sì forse no ma guardi faccio un esempio stupido che di sicuro piaceva anche a Andrea Doraemon la cosa più semplice del mondo se te leggi le storie a primetti di Doraemon sono Gabbiona da primetto anni 60 al 70 giapponese c'è Gabbioncina piccoletta disegno super minimale però ti descrive il nucleo familiare tipico medio borghese possiamo dire del Giappone che comunque Tokiense in particolare che comunque è una roba dove il bimbo non ha voglia di studiare dove i genitori hanno voglia che il bimbo diventi qualcuno il padre che c'è non c'è a casa i bulli che lo bullizzano tutto il giorno è lui che cerca la soluzione semplice ovvero il ciuschi di Doraemon per risolvere la situazione quando invece dovrebbe risolverlo con la propria responsabilità con le proprie responsabilità e questo a me piace cioè il nascondere qualcosa di veramente forte a livello sociale etico eccetera con uno stile simpatico e cacciarone apparentemente cacciarone per quello mi guarda anche il suo lavoro mi guarda anche quello il panzero calcare che nella umicità eccetera poi ci butta fuori come incolli capite questo è secondo me questo è il modo giusto per unire l'intrattenimento all'arte cioè unirle indissolubilmente anche a livello proprio tematico a livello contenutistico il svolto di questa cosa qui è che per fare dei fumetti belli non basta che l'argomento sia importante o che sia una cosa incredibile insomma se puoi fare una cosa che non diverte anche perché poi diventa una palla diventa una palla immangiabile illeggibile capito devi trovare per noi poi c'è anche la gente che fa il graphic journalism meglio esatto che dovrebbe descrivere roba pallosissima invece li leggi perché ma perché è divertente è bello da leggere la roba dice un sacco è bella da leggere e poi c'è qualcuno che fa boi lasci metti in mezzo la mafia della politica le os eccetera e poi fa una palla che non si può leggere perché a livello narrativo fa schifo magari le intenzioni sono buonissime ma fa schifo se invece leggi century che farò il video era martedì esce il video ci metti in mezzo la politica giapponese che è una palla mortale la mafia ti fa capire come sono fusi insieme mafia e politica eccetera è incredibile perché è talmente thriller talmente umare talmente fatto bene che lo leggi e capisce anche la cosa tutto è anche disegnato benissimo va bene io vi ringrazio per il tempo che vi avete concesso è stato veramente bello grazie mille sicuro grazie a te c'è il GTO e poi tutto quello che ha fatto Urasawa anche le vostre quelli li ho già educati abbastanza sicuro sul maestro non si educano mai troppo vabbè vero? ok grazie ciao ciao ciao